Premio il Davide Michelangelo a Michele Rinaldi. Applausi. Buonasera a tutti, sono orgoglioso, felice e veramente gratificato nel ricevere questo premio dall'Accademia Italia in Arte nel mondo. Arrivederci, grazie, grazie al comitato e grazie ai fratelli Chiavarini e al colonnello Miulli. Bisogna dire che Michele Rinaldi è un fotografo di classe, di alto spessore e quando alto spessore non solo l'altezza naturale. E devo dire che in parecchie cose è stato anche un mio maestro di fotografie perché anch'io sono appassionato di fotografie e insieme abbiamo partecipato alla mostra alla Maccagnani. Grazie. Grazie a voi. Prego. Grazie.